Centro Revisioni Florio Calandra Buon pomeriggio, bentrovati a Fil Rouge TV. Eccoci per Fil Rouge News, oggi parliamo della pedonalizzazione di via Emerico Amari. Con la pedonalizzazione di via Emerico Amari in città è stata avviata una rivoluzione epocale destinata a completarsi con un'incredibile trasformazione del lungomare fronte-porto di via Francesco Crispi. Lo ha detto il consigliere comunale di Sinistra Comune, Marcello Susinno, che è in collegamento con noi. Grazie Marcello per essere con noi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie a te, grazie a voi. E allora, Marcello, raccontaci un po' di questa pedonalizzazione di via Emerico Amari. Si tratta di un provvedimento che cambierà, diciamo, il volto, lo stile di questa zona del porto di Palermo. Raccontaci tu. Assolutamente sì, Dora. Noi siamo dell'avviso che questa pedonalizzazione, così come le altre in via Macqueda, hanno cambiato il volto della nostra città. Chi arriva da fuori pensa di trovarsi non più a Palermo, ma in un'altra città. Invece siamo qui, è una città che negli anni si tende a trasformare. Questa trasformazione di via Emerico Amari chiaramente tocca anche la questione del lungomare, come giustamente dicevi tu, di via Crispi. In atto, all'interno del porto, è in atto proprio una vera e propria trasformazione. Io, venerdì scorso, abbiamo incontrato il presidente dell'ente porto, Pasqualino Monti, e facevo un esempio così semplice, così come è avvenuto all'aeroporto tanti anni fa e oggi abbiamo un aeroporto trasformato, lo sarà anche per il porto di Palermo. La questione di via Emerico Amari riguarda e come è la questione del porto. Cominciamo col dire che fino a qualche anno fa, fino a poco tempo fa, e anche fino ad oggi, ancora i lavori non sono ultimati, chi scendeva dal porto, dalle navi da crociera, si trova a fronteggiare quei blocchi di cemento proprio a ridosso di via Emerico Amari. Diciamo subito che quelli saranno sostituiti con una passerella sovraelevata che proprio dal porto consente l'accesso in via Emerico Amari per poi arrivare nella vera e propria pedonalizzazione della nostra città. È una trasformazione epocale della nostra città, noi ci crediamo. Sono necessari dei sacrifici anche da parte di attività, delle attività commerciali, però io ritengo che alla fine i risultati arriveranno. Molti commercianti con la pedonalizzazione di via Macqueda, prima erano contro, pensavano di vendere una magliettina in meno, invece si sono reso il conto che ne vendono tre in più. Ed è per questo che come amministrazione dobbiamo fronteggiare alle numerose richieste di espansione della pedonalizzazione. Questa è la visione di questa città e speriamo che il processo di cambiamento non si arretri con la prossima amministrazione. Ecco, infatti è molto importante perché quello del lavoro che sta facendo il presidente dell'autorità portuale per la Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, è veramente importantissimo per la nostra città, perché la valorizzazione del porto di Palermo è qualcosa di veramente fondamentale. Naturalmente in questo caso state dimostrando, Marcello, che se le cose si fanno in sinergia ecco le cose funzionano. Un soggetto da solo non può fare nulla. Chiaramente il comune, l'amministrazione comunale, esposa questo progetto e quindi fa la sua parte per migliorare questa zona appunto del porto. Quindi avremo una zona del porto fruibile, meno intasata? Assolutamente sì. Allora la zona del porto, diciamo all'interno del porto, ci saranno numerose passarelle, ci saranno tantissime zone a verde, e ci sarà un laghetto artificiale di circa 8 mila metri quadrati. Io devo dire da cittadino che, avendo incontrato il presidente dell'ente porto, sono rimasto incantato di quello che è il progetto. E devo dire anche con grande chiarezza che spesso succede che si fanno degli annunci, però questi non sono degli annunci, ci sono tutte le opere finanziate con dei fondi che arrivano dalla comunità europea, che arrivano dal Ministero delle Infrastrutture, sono tutte finanziate, proprio oggi abbiamo una nave da crociera che può arrivare nel nostro porto grazie a degli interventi strutturali effettuati nel sottofondo che consentono appunto l'attracco in un altro molo della nave da crociera. Questo è un successo per la nostra città, noi ci dobbiamo augurare sempre che il turismo cresca, cresca, cresca sempre di più, perché il turismo porta economia e sappiamo tutti che sotto il profilo economico questa città è in affanno e quindi abbiamo bisogno di risorse anche che arrivano dal nord. E' per questo che anche in tema di pedonalizzazioni, permettimi di dire una parola soltanto sulla pedonalizzazione di Mondello, anche quella è una scommessa. sappiamo che prima bisognerà abituarci un attimino e io ritengo che a Palermo non deve essere da meno rispetto a San Vitolo Capo, dove insiste un lungomare pedonale per dare la libera fruibilità di quello spazio importante dove lì c'è anche un cambio culturale, sociale, economico e turistico della zona. Questa è la nostra visione, sappiamo che per portare avanti queste iniziative e ci sono dei problemi connessi, siamo consapevoli di questo, non ci nascondiamo certamente dietro un dito nel riconoscere quali sono le difficoltà per ogni provvedimento, però ci dobbiamo credere sotto il profilo turistico perché altrimenti... Oggi per esempio è una giornata che farebbe il paio con il giorno del festino di Santa Rosalia il 15 luglio del 2020, quando c'è stata quella terribile bomba d'acqua. Oggi è una giornata assimilabile a quella perché tra il Ponte Corleone con i lavori in corso e quindi le grandi code che si formano, il Ponte Oreto pure in quella situazione e il fatto che il Foro Italico sia chiuso per consentire di girare uno spot pubblicitario il traffico di tutti i mezzi su gomma è andato in tilt, forze dell'ordine, ambulanze, cittadini privati, mezzi pubblici sono rimasti intrappolati per ore. Cosa fare Marcello per evitare che in futuro possa di nuovo accadere questo? Ovviamente ci sono questi eventi di organizzare meglio percorsi alternativi verosimilmente non è stato fatto e questo ci dispiace nei confronti degli automobilisti però abbiamo anche la necessità che questi eventi vengano organizzati anche perché danno immagine positiva della nostra città come dicevo prima, purtroppo comportano dei sacrifici e delle ricadute sul traffico veicolare la questione dei ponti, sappiamo tutti che ci sono delle limitazioni nella fruizione lì occorre intervenire, in qualche modo si sta facendo chiederemo ancora dei sacrifici ai cittadini per poi dare una viabilità migliore nella nostra città sappiamo che il problema del traffico a Palermo come nelle grandi città d'Italia è un problema di difficile soluzione perché i percorsi viari sono quelli e puoi fare ben poco rispetto a quello, puoi cambiare i sensi di marcia però le macchine che girano nel nostro territorio hanno la necessità di farlo però è complicato risolvere il problema del traffico perché gli assi viari sono quelli e su quegli assi viari ti devi confrontare nel cercare di trovare le soluzioni migliori sappiamo che ovviamente non è facile, però noi cercheremo di fare la nostra parte è così, purtroppo sarà anche così negli anni futuri spesso ci sono delle critiche nei confronti dell'amministrazione sono critiche costruttive, lo sappiamo cercheremo di migliorare, spereremo di farlo i risultati quali saranno io al momento non posso dirlo prima si interviene sui ponti prima la viabilità di tutte e due le zone migliora è giusto, siamo d'accordo con Marcello Susino consigliere comunale di sinistra comune bisogna accelerare sui ponti che sono fondamentali quindi completare questi lavori fondamentali di manutenzione dei ponti e poi era giusto anche consentire di girare uno spot a Palermo perché naturalmente quella è promozione forse bisognava pensare ad avvertire i cittadini prima gli automobilisti di non prendere via mare perché avrebbero trovato tutto chiuso c'è stato forse un problema di logistica informazione anche di informazione e infatti va bene ringraziamo Marcello Susino per essere stato con noi abbiamo parlato appunto del nuovo assetto della zona anche pedonale del porto di Palermo grazie Marcello per essere stato con noi grazie a voi, buon pomeriggio ancora e grazie agli spettatori di Fil Rouge TV buon pomeriggio grazie a voi grazie a voi grazie a voi